Dalle prime ore del mattino i finanziari del comando provinciale di Trieste stanno dando esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP nei confronti di un rumeno e tre pakistani nell'ambito di un'operazione denominata Karakorum che ha permesso di far luce su un giro di immigrazione clandestina. Le investigazioni delle fiamme gialle del gruppo di Trieste sono scaturite a seguito della verifica di un veicolo in entrata in Italia dalla Slovenia attraverso il confine. Nel mezzo guidato da uno dei pakistani vi erano dei clandestini diretti in territorio italiano, un traffico vero e proprio che coinvolgeva via terra decine di migranti provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa. In particolare è stato accertato che i clandestini partiti dalla Grecia dopo aver attraversato i Balcani erano diretti in Croazia o in Ungheria. Da qui venivano poi condotti in gruppi di 7 e 15 persone attraverso il confine Italo-Sloveno con destinazione Milano-Brescia, città nelle quali avevano la propria base logistica gli indagati. I clandestini erano costretti dagli arrestati ad attraversare nottetempo i boschi che delimitano il confine con la Slovenia, senza viveri né abbigliamento adeguato. I più sfortunati, troppo deboli o senza soldi necessari per affrontare il viaggio venivano abbandonati nei boschi in balia degli eventi. In alcuni casi solo il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato che gli eventi volgessero al peggio. Nei passaggi avvenuti utilizzando mezzi di fortuna la situazione non era certo migliore. Nei veicoli, spesso vecchissimi e fatiscenti, venivano infatti stipati più del doppio dei passeggeri previsti, con grave pericolo per la vita dei clandestini e per la sicurezza stradale. Ogni transito fruttava agli arrestati circa 2.000 euro a persona. Per ogni passaggio del confine venivano quindi incassati da un minimo di 14.000 fino ad un massimo di 30.000 euro. I clandestini, illecitamente introdotti in Italia e rintracciati dai militari della Guardia di Finanza, nel periodo monitorato sono stati circa 100. Di questi, quasi una ventina hanno chiesto l'asilo politico.